Giori lunghi i denti sempre in compagna della tv Da tante notizie incerte ma che cosa accadrà Forse bambini sembra che non ci pensiamo mai Ma nel nostro cuore c'è timore per l'umanità Ma finirà, finirà La voce delle due gemelline Lucrezia e Ginevra di dieci anni parte da Arezzo per lanciare un messaggio di speranza Rivolto a tutti i loro coetanei, chiusi in casa da ormai due mesi E' infatti dal convitto di Arezzo che nasce la canzone Vicini e insieme, scritta e musicata dallo stesso preside Luciano Tagliaferri Lucrezia e Ginevra di dieci anni Lunghi e altro quadrici, sigo impassati Guardi a Ginevra di sospese, segni o dai Presto qui per me può ancora vivere 50 i bambini e le bambine delle elementari che hanno preso parte al coro Ognuno dalla propria casa guidato dal maestro Luciano Tagliaferri Ha cantato la propria parte Questi nostri genitori con parole e con amore Cercano di sostenerci e di curare il nostro cuore Vigli indori grandi ed insicuro non guardare indietro Ma con il sorriso vivere e crescere ogni giorno Le piccole voci sono state infine mixate Per tornare così, almeno virtualmente, tutti vicini ed insieme Le piccole voci sono state infine mixate Guardi a Ginevra di sospese, segni o dai Segni o dai Presto qui per me può ancora vivere Noi vicini uniti ma più locali Felici vicini insieme ma bell'amano Senza essere più giù E non perdere ci vai più Lunghi, alto, quadrici, segni passati I giorni passati Guardi a Ginevra di sospese, segni o dai E non perdere ci vai più